Un grande impegno sul territorio e tanti successi operativi anche nelle ultime ore. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Massimo Dell'Anna, fa il punto ai nostri microfoni sulle recenti operazioni. È stato un anno molto impegnativo in cui, anche se abbiamo rallentato l'attività di polizia tributaria in senso stretto per l'emergenza di questa pandemia Covid, abbiamo comunque continuato a perseguire le frodi fiscali e altri crimini economico-finanziari. Per cui sono state diverse le operazioni svolte, con svariati arresti e soprattutto sequestri patrimoniali rilevanti. Ecco, anche nell'ultimo ore ci è stata un'operazione particolarmente importante. La tenenza di Castellaneta ha effettuato un sequestro equivalente di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un soggetto che aveva evaso sia le imposte dirette che l'IVA. Abbiamo cercato chiaramente di adeguarci anche a un nuovo scenario operativo e quindi sotto la regia preziosa del prefetto di Tanto abbiamo cercato di concorrere con le altre forze di polizia nel difendere il territorio da questa pandemia e quindi nel far osservare le restrizioni che di volta in volta l'autorità di governo ha emanato per proteggere i cittadini.